Il rito del battesimo delle bambole si celebra il 24 giugno di ogni anno. È un rito antichissimo e pensiamo che risalga già al tempo degli antichi Arbresh, perché il nostro paese, Barile, è un paese di origine Arbresh. Questo rito si effettua il 24 giugno in prossimità della stazione ferroviaria, perché anticamente c'era una chiesa rupestre dedicata a San Pietro. Questo rito viene effettuato soltanto da due bambine che si scelgono tra di loro, due amichette. Una interpreta la parte della mamma e l'altra della madrina. Si costruisce la bambola con materiale povero, il materiale che c'è in casa. Allora, incominciare dal mestolo, dal cucchiaio grande che si usa per scolare la pasta. Poi si utilizzano tutti gli indumenti che usavano i bambini. La caratteristica di questi indumenti viene data addirittura dalle fasce. Dalle fasce che anticamente venivano utilizzate proprio per i bambini neonati. E anche gli indumenti, la cuffietta, il vestitino, erano tutti indumenti che appartenevano ai bambini. Le bambine si recano presso la stazione ferroviaria, prendono la bambola. Allora, la mamma prende la bambola, che rappresenta la figlia, la mette per terra sotto un gradino. La madrina fa tre salti e pronuncia delle parole, che un po' sono in lingua brescia e un po' in dialetto lucano. La filastrocca è questa. Poplie San Juan, baptizze me stipan, stipan so battezzat e tutkumar sin chiamat. Questo rito viene effettuato non solo dalle bimbe piccole, ma anche dalle persone adulte che vogliono contrarre un comparizio. Naturalmente questo comparizio è un fatto simbolico, è un comparizio giuco, è un simbolo soltanto. Non è che perché il vero comparizio si effettua quando si fa il rito religioso in chiesa. Alla fine si consumano dei dolci tipici del nostro paese. E poi ci si intrattiene ancora per lungo tempo con le persone anziane, facendo dei giochi. Le tradizioni devono essere mantenute perché sono le radici di un popolo e il futuro deve avere un cuore antico.